Cosa accadrebbe se un politico all'improvviso dicesse tutta la verità? Non ci posso credere, bentornato. Andatevene tutti a fanculo! E su papà basta! Senta tu con sta S che non si può sentire! Signora, al momento suo marito purtroppo è totalmente privo di freni inibitori, perciò dice e fa tutto quello che gli passa per la testa, comprese le parolacce. Bentornato onorevole, come sta? Bene, bene, grazie a Dio signora Scatozzo, non c'è male. Lei un cesso, come sempre. Guardi, le devo dire una cosa, va bene suo marito a metterle nelle corne con la negra? Onorevole, che cosa dici? Ah sì, la nigeriana, quella che mi fa le polizie! Oh, ma da mo' che trombone! Lo fanno tutti da questa parte! Andiamo, va! Beh, buona giornata e buona torna! Piano piano! Grazie! 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 Grazie a tutti